Calcio nel gubbio che vuole, il ripescaggio tra i pro rassegna le dimissioni da amministratore delegato Marco Fioriti, Gualdo Casa Castalda, patron Minelli chiede aiuto al territorio per evitare di dover abbandonare la Serie D Perugia e Bisoli la prima scelta Volley, l'Alto Tevere Città di Castello ha reso ufficiale la rinuncia all'iscrizione al prossimo campionato di Superlega Unipol Sai i biancorossi ripartiranno dalla B1 Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva targata TRG Apertura dedicata al gubbio che si trova sempre alle prese con la preparazione della documentazione per la domanda di ripescaggio affidata con ogni probabilità al legale Grassani Nelle ultime ore intanto si sono materializzate le dimissioni dell'amministratore delegato Marco Fioriti che lascia definitivamente il gubbio dopo 11 anni di attività Facciamo il punto nel prossimo servizio In casa gubbio l'unico pensiero in testa nella società è quello inerente alla questione ripescaggio Ieri sono state prese alcune decisioni dalla FIGC che saranno varate nel prossimo consiglio di Lega Chiunque volesse presentare domanda di ripescaggio dalla Serie D ai professionisti occorreranno 600.000 euro di fideiussione e altri 600.000 a fondo perduto da destinare alla Federcalcio il prossimo consiglio è atteso per la fine di giugno intanto però sono già iniziati a circolare i malumori per le richieste giudicate esorbitanti e penalizzanti da tutti quei club e non solo interessati a ripescaggio nulla di ufficiale il fatto è però che anche l'aumento della fideiussione al campionato 200.000 euro oltre 400 già stabiliti nello scorso anno ha già nascato polemiche soprattutto da quei club che non hanno un'alta disponibilità economica per iscriversi e allestire una squadra competitiva in un torneo come la Lega Pro accusando la Lega di voler spremere fino al midollo i club invece che studiare piani per poterli aiutare alleggerendo il peso dell'iter almeno dal punto di vista finanziario intanto ha rassegnato con una lettera alla società le proprie dimissioni l'ex presidente amministratore delegato Rosso Blu nell'ultimo anno Marco Fioriti se ne discuterà domenica sera quando è previsto il consiglio di amministrazione della società in cui si deciderà anche se affidare come sembra la questione ripescaggio nelle mani dell'esperto legale in materia Grassani il gubbio oltre che chiedere il ripescaggio per prendere il posto di quelle società che non si iscriveranno già Outer, Real, Vicenza, Arischio, Paganese, Brescia, Varese, Carrarese, Monza si tiene vigile anche per quanto concerne il filone dell'inchiesta a dirti Soccer i club di Lega Pro si sono costituiti come parte offesa e qualora dovessero essere retrocesse sul campo le società invischiate nello scandalo i Rosso Blu proveranno a percorrere anche la meno salata via della riammissione ai professionisti siamo solo all'inizio gubbio si prepara a vivere l'estate calcisticamente più torrida degli ultimi 17 anni in Serie B il Perugia è alle prese tra la costruzione della squadra per il prossimo torneo cadetto e la contestazione da parte di una frangia della tifoseria ai danni di Roberto Goretti Reo di aver accusato anche il pubblico del fallimento ai play-off della squadra oggi l'incontro con Pierpaolo Bisoli il nome gradito alla piazza piace alla società per il suo curriculum di categoria avendo allenato Bologna, Cagliari e Cesena tra Serie A e B da questo incontro dipenderà anche la pista che porta a Davis Mangia grande protagonista tra Serie A e B alla guida tecnica di Varese e Palermo oltre che quella della nazionale Under 21 sfumati invece definitivamente Massimo Drago che a breve firmerà per il Cesena e Marco Giampaolo che non resterà a Cremona ma si accaserà alle Impoli nella prossima settimana invece toccherà ai rinnovi di alcuni recenti protagonisti vertici fissati con Amelia, Comotto, Mantovani e Taddei in Serie D il foligno rappresentato da Damaschi Pandalone si è presentato in comune per discutere con la giunta comunale i termini della nuova convenzione per usufruire dei servizi dello stadio Blasone passaggio inevitabile e fondamentale per ottenere nell'immediato l'affiliazione alla Lega Nazionale di Lettanti da parte della FIGICI Umbra per il nome dell'allenatore ci sarà da attendere la fine di giugno Favilla Enofri in pole spunta però anche un allenatore campano in passato giocatore dell'Avellino che Damaschi ha voluto ottenere top secret spostandoci a Gualdo futuro ancora tutto da decifrare per il Gualdo Casa Castalda ieri sera conferenza del presidente Matteo Minelli che ha chiesto aiuto a tutto il territorio per provvedere all'iscrizione della squadra che rischia di non disputare il prossimo torneo di Inter regionale il servizio Nubi nere si addensano sopra il Gualdo Casa Castalda nel tardo pomeriggio di ieri nella conferenza stampa organizzata e fortemente voluta dal presidente Matteo Minelli si è fatto il punto della situazione della società gualdese dopo la fine di un campionato senza dubbio positivo in cui la squadra ha migliorato il rendimento e la posizione del campionato 2013-2014 lesinando qualcosa nel finale dove era concreta la possibilità di agganciare il treno playoff ma centrando con largo anticipo la permanenza in Serie D e valorizzando anche alcuni giovani del proprio fulgido settore giovanile chiusa la sala cinesca della recente stagione sportiva il pensiero è diretto all'immediato futuro con la preoccupazione che tutto il lavoro svolto negli ultimi due anni possa essere varificato dalla mancata iscrizione al prossimo torneo qualora non si trovi la cifra di 50.000 euro e soprattutto qualora sponsor di primo piano come Rocchetta o altre aziende del territorio non si facciano avanti per aiutare in modo concreto una realtà sociale importante come spiega lo stesso presidente Matteo Minelli il territorio dopo questa fusione non ha risposto come avrebbe dovuto quindi ci siamo ritrovati e siamo soli in questa avventura naturalmente in questi momenti difficili per l'economia e non solo anche per il calcio umbrio perché le risorse a disposizione delle società sono sempre meno soprattutto quelle del Guadalco Casa Castalla dove se noi andiamo a pensare che quest'anno abbiamo fatto 22.000 euro di incassi per tutta la stagione quindi capiamo che il territorio non sta rispondendo e qualora si continua in questo modo non entrano forze nuove e che poi basterebbe poco per mantenere quello che è stato fatto noi ci limiteremo a fare la nostra con una piccola sponsorizzazione e poi chi arriverà vedrà e naturalmente lasciamo i conti della società a posto chiuderemo la stagione corrente per la prossima bisognerà di dovere fare una pianificazione diversa In chiusura doveroso spazio all'Alto Tevere Città di Castello Volley con la notizia arrivata nella mattinata di oggi della rinuncia da parte del sodalizio bianco-rosso guidato dal patrono Arveno Ioan di iscriversi al massimo campionato nazionale maschile la Superlega Unipolsai si chiude dunque dopo due anni l'avventura della squadra Tifernate nel massimo panorama del volley italiano impegni economici troppo onerosi hanno costretto la dirigenza alla dolorosa decisione di dire addio alla Superlega dando così ragione alle voci che davano alla società autore di un campionato mediocre chiuso al penultimo posto in crisi e sul punto di mollare i bianco-rossi come si legge nella nota della società hanno fatto richiesta alla FIPAV per essere iscritti nel campionato di serie B1 ed era questa l'ultima notizia l'informazione sportiva di TRG torna lunedì prossimo buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie per la visione!